Valorizzare una filiera che ha fatto la storia di un'intera valle attraverso attività sostenibili e inclusive. È in programma domenica 31 ottobre alle 14.30 presso la Sala Convegni del Parco dei Colli di Bergamo la tavola rotonda alla filiera della lana per una reale valorizzazione organizzata nell'ambito del Festival del Pastoralismo 2021. Si tratta di un evento particolarmente rilevante che prevede anche l'intervento di Fabio Rolfi, assessore all'agricoltura di Regione Lombardia. In Italia, come in altri paesi, si sono fatti dei tentativi di rilancio delle lane locali, delle lane rustiche, però non sono mai decollati. Sono tentativi che sono rimasti un po' fino a se stessi. La possibilità di Gandino è che essendoci ancora una filiera vera e propria, a differenza di altre località dove sono state fatte queste sperimentazioni e essendoci a Gandino una grande creatività come dimostra anche il fenomeno del mare spinato, creatività ma concreta, legata a concretezza imprenditoriale eccetera. Se qualcosa sulla lana può nascere, parlo in Italia, può nascere qua. Con la chiusura nel 2018 dello storico impianto di lavaggio della Manifattura Ariete di Gandino, spiega Michele Corti, presidente del Festival, l'Italia settentrionale ha perso un punto di riferimento per il conferimento delle lane autoctone. La lana non lavorata è materia difficilmente conservabile che deve essere smaltita quale sottoprodotto di origine animale. I pastori sono costretti a conferire a loro spese la lana agli impianti di smaltimento. Eppure la lana continua ad essere un materiale prezioso del quale si possono ottenere prodotti per l'abbigliamento, l'arredamento, l'edilizia e sottoprodotti. Oggi però c'è un nuovo, una nuova esigenza, quella della sostenibilità. Quelli che i temi che una volta potevano essere considerati trascurabili, quindi le risorse, il risparmio energetico, il tema dei rifiuti, sta diventando l'aumento della popolazione mondiale, l'industrializzazione di quasi tutti i paesi del mondo, sta portando questi temi all'ordine del giorno. Ecco, la lana risponde a queste esigenze sotto tanti punti di vista. È una fibra che viene da una fonte rinnovabile, è una fibra che è biodegradabile, è una fibra che può essere trasformata in tanti tipi di applicazioni. Oggi la lana viene utilizzata essenzialmente e soprattutto per un background storico nel campo dell'abbigliamento e dell'arredamento. Ecco, questo si è poco investito in termini di ricerca sulle nuove applicazioni.